10 5 3 2 1 vai 30 sinistra 2 lunga lunga gira 100 e destra 3 meno meno esce sinistra 3 tieni frena molto per tornante destro chiude esce sinistro 20 e sinistra 4 30 e sinistra 4 esce destra 200 ringhiera frena in sinistra 4 e subito destra 3 per sinistra 2 più più apre 20 al palo sinistra 3 esce destra 150 al muro prepara destra 3 più più 50 accenno destro 20 al prato sinistra 4 meno meno media tieni 20 e tieni molto destro subito tornante sinistro esce destro 50 destra 4 doppia tieni 30 alla roccia ritarda poco destra 4 chiude esce sinistra 3 più più e molta attenzione la ringhiera tornante destro 150 ritarda poco alla pianta sinistra 4 lunga tieni 20 e frena molto la ringhiera prepara tornante sinistro 10 destra 3 due tempi lunga lunga gira esce sinistra 3 meno meno 50 imposta addosso per sinistra 3 meno meno freni molto subito tornantone destro 50 accenno destro 30 e sinistra 3 più più e subito al muro sinistra 4 50 e molta attenzione prepara destra 3 meno meno su dosso in bivio 30 al tetto sinistra 3 meno meno stringe 20 e molta attenzione frena su rotto e sta in sinistra per destra 1 sale stringe tra le case 20 sta in 100 sinistra 3 media sale alla ringhiera esce dosso destro e frena molta attenzione sinistra 2 subito tornante sinistro stretto sale no eh 50 alla casa imposta destra 2 più più 80 almeno prepara sinistra 2 esce destra 3 più più 20 e di estra 2 tieni subito sinistra 2 meno meno 20 alla casa sinistra 3 meno meno 30 e molta attenzione tieni destra 2 meno meno subito sinistra 1 chiude per destra 2 meno meno media apre 20 alla casa prepara destra 3 più più esce dosso dritto per destra 5 50 al re sinistra 4 meno meno tieni frena molto alla pianta prepara tornante sinistro 20 20 destra 2 subito destra 1 meno meno al muro diventa destra 3 per sinistra 2 10 e molta attenzione al palo tornante sinistro sale no corda molta attenzione alla ringhiera destra 2 diventa 1 invidio 10 e sinistra 3 più più lunga lunga apre 30 a vista sinistra 4 50 e sinistra 2 meno meno sale rotta 20 e destra 1 no corda 80 e destra 3 10 sinistra 2 meno meno frena subito tornante destro stretto sporco 80 e sinistra 2 più più frena per tornante sinistro chiude esce destra 2 lungo e subito dosso per destra 3 30 e sinistra 2 più più rotta 20 prepara addosso per destra 1 gira poco scivola no corda esce sinistra 3 lunga apre e tieni molto per destra 2 più più 30 al pino sinistra 2 alla ringhiera destra 2 meno meno 20 e destra 2 più più 30 al bianco prepara sinistra 2 meno meno rotta esce destra 2 più più tieni 30 destra 3 meno meno tieni esce sinistra per destra imposta destra 3 su dosso alla casa sinistra 4 subito destra 3 esce sinistra 20 e destra 3 per sinistra 3 subito frena destra 1 gira lungo su dosso scivola qua ok 30 e tieni destra 2 meno meno per sinistra 3 lunga tieni e subito destra 2 50 prepara sinistra 3 più più 20 alla casa ritarda destra 3 meno meno molta attenzione frena per destra 2 meno meno esce lunga su dosso 10 e frena destra 1 per sinistra 1 e destra 2 per sinistra 3 più più 100 molta attenzione destra 2 meno meno su dosso scivola 20 e destra 2 più più apre 100 alla siepe sinistra 1 subito sinistra 2 10 destra 2 meno meno chiude per sinistra 3 per destra 3 media per sinistra 3 per destra 3 meno meno e per sinistra 3 e molta attenzione alla rete prepara tornante destra chiude 30 dosso per destra 3 esce sinistro 30 accenno destro frena per sinistra 1 torna chiude e taglia destra 2 10 destra 1 dosso dritto per sinistra 2 meno meno media esce destra 20 destra 2 meno meno sporca subito addosso per sinistra 1 meno meno gira scivola e subito tornante sinistro chiude esce destra 2 dov'è dov'è il fine finito eh l'ho fermato un po' tardi eh pian piano ci prendiamo la mano devo ancora capire come funziona sto frena mano vedo che ogni tanto ti scappa via la mano eh non tiro ma non delle volte va delle volte non va ma dov'è il tavolino? eh qua via l'いつ il s o